E là ragazzi, io sono il vostro Fanny Gamer e oggi sono con Metrama, salta Metrama E oggi siamo con Metrama, perché siamo in questo mondo? Perché vedete delle ombre là? Vi spoiler un po' di cosa, questa è una lobby, la lobby di cosa? Questo è lo speciale 20 iscritti Ok, adesso si è unito anche Kinder Knife L'unico appena detto che ha un canale, come ti chiami? Ripetilo Iscriviti al suo canale che si chiama Pro Gaming Gita IT Oggi, questo è lo speciale delle Sky Wars Adesso, adesso, c'è la mappa solo con la normal Mappa normal, qui, mappa normal, aspetta, qui, qua si mette lui Si mette il nostro Kinder Knife Qua Kinder Knife Poi mettiamo Metrama, qui dentro Metrama lo mettiamo in Survival Poi anche io nella mia isoletta Queste scavolose potete giocare tutti voi Metto i permessi a tutti e due Chi morirà, morirà E lo metterò che può volare Che ci può osservare C'è andato subito e disse Questa mappa, non ho scelto io questi già Perché c'era un mio amico Mi ha aiutato a costruire questa roba Quindi lui ha messo le robe nella cesta E io non so esattamente Tutto Lascio a gruttare Lascio a gruttare Non so esattamente Dico Cosa va messo nella cesta Metrama si è schiantata al suolo Metrama li facciamo così Moderatore Può diventare come se vuole volare E faccio così Non so perché Come si è schiantata al suolo Spero che non l'ho fatto di proposito Perché se no non sono delle scaros belle Stava camminando per l'isoletta Però è caduto bene Eccolo qua No Ha vinto Kill the Knife Raga Ha vinto Kill the Knife Spoiler, spoiler, spoiler Comunque dico a Metrama che mi sente ora Che non crasha Non mi lagga quando mi parla Quindi si può mettere anche un microfono Mettiamo Metrama in creativa Metrama in creativa Kill the Knife in creativa E faremo delle partite più o meno Adesso esco e li invito ancora Esco senza salvare Raga Comunque Non so che è tipo uno speciale strano Che devo fare tutte le cose E salvare Ma se cadono subito Siamo in tre Siamo in tre E lo dubito Però Il problema è che Se uno cade subito E' una brutta cosa E' una brutta cosa Mi sono altrimenti Un lontanato Eccoci ancora qui Adesso li invitiamo Loro due Perché loro due sono l'unici Che finora Dico Finora Conoscono Stasca Il vostro costruito Ci sono anche altre mappe Mi indica Davide Ponte Che se vuole Mi può aiutare A costruire Delle mappe Costruire delle mappe Se sentite Dei rumori Come sempre Sono in questo Di controllo Che è Eccolo Kill the Knife Kill the Knife Lo prepariamo Quando entra Cosa Guarda Perché No Io non lo so Per bene Allora E' trama Si unisce E' trama Può mettere Anche il microfono Tipo Kill the Knife Qui Metto Kill the Knife In survival Vuol dire Che è già volato Voleva volare Non volevi Come dice Dio Vapero Come Comunque Può mettere Il microfono A me non crashi Se vuoi dirmi Qualcosa Dimmelo pure Perché a me non crashi Gli ho detto a lui Perché almeno così Mi metto un survival Mi metto tutti i permessi Poi è difficile Può mettere i permessi A tutti Non sono io veloce Come tipo Christian 177 O quelli da Comunque Perché No Perché non sono veloce E Comunque perché Non sono veloce Vabbè vabbè Allora Il problema Che se qualcuno di loro Come adesso Ora ti prego Mettranno Non cadere Come un babbo Lì Che vi freccia Non ci provare I frecci Ok Ritorniamo dentro Questo qua ci freccia Per sempre Proprio Per sempre Tra lo metto Non tolgo la pioggia Perché se no Il video Non può andare Bene Cavolo Questo qua mi sciotta Keep the knife Keep the knife Mettranno Lo mettiamo Che Non può più fare nulla Moderatore Poverente Può volare Lo colpisce Lo colpisce Lo ricolpisce No 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 Suo nonno Olè Mentre la lui fa le sue robe Io vado avanti Si mi ha ancora distratto Ma è pazzo 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 Sta persona L'hashtag Sta persona Boom Ma Mettranno Non può fare nulla Vero No Non può fare nulla Eccoci qua Al centro Lo dobbiamo Ammazzare Non è che no Ma si Proprio Abbiamo l'inderpearl Quindi direi di si Cioè io l'ammazzare Si è suicidato apposta Vabbè ragazzi Speciale cortino Anzi Facciamo tre partite Proprio Pari 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 E L'ultima partita Poi lo speciale Può finire Ok Vi devo dire Una cosa Grazie Un sacco Grazie mille Per averne aggiunto Per farmi Per farmi Averne aggiunto I 20 iscritti Io mi impegno A fare i video Non sono bravo Come quei pro gamer Però almeno Mi impegno abbastanza Io questa carriera Da youtuber Vorrei continuare Non la vorrei lasciare Solo in caso di stemi Potrei lasciare Allora divenirei a voi Perché voi siete Molto gentili Che mi aiutate Col canale Tutte queste cose Comunque Dove è Metrama Mi ha tolto Degli amici Metrama Non mi ha tolto Degli amici Cioè io Quando Invito Prima Anche Il giornale Vabbè Vabbè Ehm Dove lo sfondo Là sotto Per ora C'è solo Questa mappa Mappa normal Poi Da altre parti Farò tipo La mappa C'è Metrama Metrama Mettiti le cuffie Ti prego Perché se no Non vorrei capirti Io Ti vorrei capire Se mi devi dire qualcosa Metrama Comunque Eccolo Sì Ok Visto che le mattine Ti mi coprono Perché a me Non dà fastidia Anzi A me fa piacere Ecco Non si dà problemi Dimmelo Visto che non entri Noi due Cominciamo Va bene Tu mi puoi anche aiutare Quando finisco Lo speciale Che facciamo altre mappe No Sto ancora facendo Ultima partita E poi Basta Vorresti aiutarmi A costruire altre mappe Grazie No Non so fare i meccanismi Ok Ho fatto meccanismi Su due isole Devo farlo ancora Su altre due isole Su quella del centro Ragazzi Farò anche Le bedur Nello speciale Parate iscritti Con un episodio Così A casa Il mio canale Ci chiama Funny Gamer Il mio logo È tipo uno In Minecraft Tipo quasi Un omino Con la felpa blu 20 iscritti 20 iscritti 18 video Ora ragazzi iscrivetevi comunque anche al suo canale Al suo canale Dico l'altro canale Il suo canale è Deprogaming Lui sta parlando con un sonno di farmerci quindi aspettiamo In questo momento volevo solo dirvi che è grande ecco siete dei grandi Intanto mi facciamo così Un po' di metà aspettiamo Siete dei grandi Mi avete aiutato tantissimo da arrivare a questa soia di iscritti Sono pochi Vabbè Però almeno A vedere un Due come decine nel mio canale È un uomo No no tranquillo 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 No 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 Raga 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 Stavo Stavo morendo malamente Lo sai Su Play Allora Devi andare te lo ricordi? e te lo ricordi? e da suoi uno Dai, però, devo finire lo speciale. Mi dispiace, ma dovrei morire. Ho l'arco. Bene, ragazzi, adesso mi suicido e faccio l'outro con lui. Vabbè, mi suicido perché, vabbè. Vieni qua, ho avuto il trasporto da me. Vieni, facciamo l'outro. Allora, girati. Girati! Ecco, ragazzi, grazie per tutto quello che mi avete fatto, per i 20 iscritti. Lui si chiama Metrama sulla PS3, lo vedete anche lì, vi faccio vedere anche qua. Il suo canale è... Del Pro Gaming, grazie per tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Spolliciate e... Benna raga!